Siamo venuti a Sant'Angelo in Lizzola, alla sede del Comune di Vallefoglia, per consegnare il primo plico con 2000 firme, raccolte grazie alla collaborazione di tutti gli associati dell'associazione Diversamente che è stata creata il 22 ottobre. Continueremo il nostro impegno nella raccolta sia online che la raccolta cartacea. Questa è la seconda azione che facciamo nel 2021. Il 2 gennaio abbiamo consegnato in provincia le nostre osservazioni all'istanza presentata il 18 novembre 2020 da Green Factory per la verifica di assoggettabilità a via. Alla valutazione di impatto ambientale. Abbiamo chiesto che venga dichiarata la non procedibilità in via principale in quanto non c'è il rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti. Nel caso non dovesse essere dichiarata la non procedibilità abbiamo anche chiesto che almeno venga dichiarata la assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale. Perché crediamo che questo procedimento possa unire o creare la sintesi tra gli interessi pubblici e privati in modo efficace ed efficiente e soprattutto garantire trasparenza e pubblicità. Come anche nel precedente intervento che ho fatto davanti alla provincia vorrei a nome dell'associazione nuovamente chiedere agli amministratori del comune di Vallefoglia che cosa intendono fare nella conferenza di servizi. Quale sarà la posizione ufficiale degli amministratori visto anche che il consiglio comunale di Tavuglia ha dichiarato la propria contrarietà in maniera unitaria minoranza e maggioranza alla localizzazione del biodigestore a talacchio di Vallefoglia. Chiediamo quindi nuovamente che si esprima all'amministrazione di Vallefoglia e che faccia sapere alle migliaia di cittadini che hanno aderito alla nostra raccolta firme qual è la posizione e come intendono tutelare tutti i cittadini del comune. Un'ultimissima cosa, hai parlato di una prima tranche di 2.000 firme, questo vuol dire che ce ne sono altre, la raccolta continua, tanti cittadini hanno risposto. Sì, nei prossimi giorni porteremo ancora migliaia di firme che già abbiamo e che continuiamo a raccogliere, le presenteremo anche in provincia, stiamo valutando l'opportunità di presentarle anche in altre sedi. Crediamo che la nostra opposizione vada manifestata in tutte le sedi opportune a garantirci una visibilità e soprattutto che ci venga manifestato un interesse, cosa che oggi non riscontriamo dai nostri amministratori.